Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari sotto servizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Il mese di giugno inizia con l'anticiclone che protegge il nostro territorio. Da metà settimana poi in arrivo anche il primo vero caldo estivo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì evidenzia una situazione tranquilla. Come detto l'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile con tanto sole su tutti i settori della nostra regione. Qualche addensamento in giornata ma insomma senza piogge. Temperature stazionarie, gradevoli, minime tra 10 e 15 gradi, valori massimi compresi tra i 19 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, qualche nuvola in più al mattino ma sarà del tutto innocua. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime sui 22 e 23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove di fatto avremo poche novità. Sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 24 e 25 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Consortile Sauvage Novità Novità